Musica Bella a tutti ragazzi bentornati Oggi siamo in questo particolare video Affronteremo il pack opening Delle casse di Call of Duty Black Ops 3 Io andrei subito Solo a comprare le casse da 10 Da 10 criptochiavi Infatti abbiamo 60 criptochiavi Compriamo solo queste qua da 10 Così non le sprechiamo Vai Cominciamo Bene 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 Con la abbronzatura Bene bene questa è bella Ma il resto è nulla Ci siamo Vai 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 Uuuuh Leggendaria stazione rapida per Gorgon Sì è l'utilizzo Vai 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 Ma Niente di interessante Vai con la prossima cassa Ma Ma Neanche tanto Vai Ah bella però Mostra Benito da vista Buono Vai L'ultima criptochiave Grande Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ah ti dai il bonus scritto chiare E questo pack opening Si conclude qua Una roba bella forse 4 o 5 cose Niente di che Ci becchiamo a tutti Al prossimo video Al prossimo video